Bari a caccia della prima vittoria in casa della stagione. Al San Nicola i Biancorossi ospitano per la terza giornata di campionato il Cittadella di Edoardo Gorini. L'obiettivo è bissare il successo ottenuto a Cremona per restare in scia del Parma, che ieri ha battuto in trasferta 2-1 il Pisa, portandosi momentaneamente in vetta alla classifica. Mignani questa sera potrà contare su Maita e Capitani Cesare di ritorno dalla squalifica. In panchina non ci sarà invece Frattali ceduto a titolo definitivo al Frosinone. Sarà quindi Polverino, almeno per il momento, il secondo di Brenno. Il portiere brasiliano sarà ancora una volta in campo dal primo minuto. Davanti a lui Mignani ha pochi dubbi in difesa, con Dorval a destra, Di Cesare e Vicari centrali e Ricci a sinistra. A centro campo sicuri del posto Maita e Maiello, mentre uno tra Benali e Cuzzupias completerà il reparto. Sulla tre quarti è ballottaggio tra Moracchioli e Bellomo. In avanti Mignani dovrebbe confermare il tandem formato da Nasti e Sibilli. Prima convocazione per il neo arrivato Gianluca Frabotta, il terzino sinistro di proprietà della Juventus, si accomoderà per il momento in panchina. Attesi al San Nicola circa 20.000 spettatori. A partire dalle 20, TRM H24 racconterà tutte le emozioni di Bari-Cittadella. Michele Mitterotondo e Nicol Tamma sono pronti a tenervi compagnia dallo studio 2 di Bari per una lunga diretta insieme all'ex difensore biancorosso Dudu Diaw. In collegamento nello stadio Maurizio spacca vento per non perdere neanche un'emozione della partita al San Nicola. Non mancheranno le incursioni di Max Sisto e Nic Romanelli.